buona settimana che comincia buona settimana che comincia in compagnia di legal community e di un nuovo numero del nostro mag il quindicinale che insomma approfondisce svela retroscena fa inchieste realizza tantissime interviste ai protagonisti del mercato dei servizi legali e in generale della business community nazionale come l'intervista che apre questo numero fatta al managing partner di baker mckenzie il dottor pisciotta che nasce dalla ricorrenza di un anniversario importante per becker mckenzie in italia cioè il sessantesimo dell'apertura di questa insegna di matrice americana nel nostro paese si tratta di un anniversario importante per varie ragioni la prima ovviamente è che becker mckenzie è stato il primo studio internazionale ad avere una sede nel nostro paese parliamo del 1962 immaginate cosa fosse l'italia in quell'epoca e e quanto sia cambiata nell'arco di questi anni beh in tutte queste stagioni becker mckenzie è riuscito a mantenere salda la sua posizione all'interno del mercato e con pisciotta noi facciamo un po un escursus no di questa di questo arco storico arco temporale che ha visto protagonista lo studio all'interno diciamo di vicende particolarmente importanti per quella che è stata la storia economica del nostro paese e che oggi ovviamente si proietta in un futuro fatto di digitalizzazione di sostenibilità di attenzione alle persone come ben sappiamo sempre all'interno di questo numero di mark troverete un interessante articolo dedicato a letterman watkins letterman watkins è a proposito di studi internazionali lo studio internazionale e non solo cioè lo studio legale presente in italia che di più è cresciuto nel corso dell'ultimo anno questo è un dato rilevante noi siamo andati ovviamente a fare una chiacchierata col managing partner stefano sciolla che ci ha raccontato un po quelle che sono le caratteristiche no della strategia di letterman watkins molto focalizzata su due aree di business ben precise ma che potrebbe presto allargarsi anche magari a una terza a una quarta sempre che ve ne siano le condizioni anche qui parleremo tantissimo di persone così come di persone le persone sono al centro di questa interessante intervista che abbiamo fatto con Michael Kuhne managing partner di DLA Piper e Gian Piero Falasca che il socio responsabile dell'area people della law firm internazionale che ha da poco diciamo così rivisto un po la gestione delle persone al proprio interno introducendo una nuova categoria di avvocati nella sua diciamo gerarchia organizzativa cioè i council ma soprattutto che sta lavorando al continuo e costante coinvolgimento di un sempre maggiore numero di persone nella gestione dell'organizzazione con degli obiettivi che vengono spiegati molto chiaramente sia da Kuhne che da Falasca che in qualche modo potrebbero essere semplificati dicendo vogliamo diventare il miglior studio legale dove lavorare no quindi aspiriamo a questo tipo di titolo dall'altro lato ovviamente c'è l'interesse ad attrarre i talenti maggiori che sono sul mercato cosa che ha fatto Withers nei tempi recenti investendo in particolar modo nel tax e noi siamo andati a intervistare appunto i soci del dipartimento tax di Withers in Italia che ci hanno spiegato qual è il nuovo assetto della loro practice e quali sono i loro obiettivi vi segnalo poi in maniera davvero calda questo importante servizio firmato da Giuseppe Salemme sulla onda verde che nasce nel giudiziale cioè sappiamo benissimo parliamo tantissimo di energia in questi tempi segnati da una guerra che incide molto sul fronte dell'approvvigionamento energetico l'energia verde le energie rinnovabili sono una risorsa una risposta alla possibile diciamo così riduzione delle importazioni di gas e altre energie di fonte differente bene sappiamo anche che in Italia tanti progetti vengono approvati pochi progetti vengono realizzati c'è sempre questa discrasia spesso burocratica ecco i ricorsi al tar al consiglio di stato degli ultimi tempi stanno come dire contribuendo ad accelerare i processi diciamo non solo autorizzativi ma proprio di messa in opera di questi impianti e di queste fonti di produzione dell'energia pulita e noi con la voce dei protagonisti cioè degli avvocati che hanno conquistato queste queste importanti sentenze che sono riuscite riuscite ad ottenere queste importanti sentenze siamo andati a spiegare quali sono i meccanismi che cosa sta cambiando e su che cosa sarebbe opportuno cercare comunque ancora di lavorare perché di certo non si tratta di un problema risolto ovviamente interessanti le nostre incursioni nel mondo dei general counsel nel mondo in house l'altra faccia del mercato dei servizi legali abbiamo tra le altre una intervista con la nostra video rubrica le 10 domande alla general counsel di GL Italia Mariniello abbiamo le prime interviste se non la prima credo alla general counsel di Webidoo e poi nella finanza tante esclusive da mindful capital a un servizio molto ben curato dalla nostra Eleonora Fraschini sulla corsa del venture capital in Italia devo dire probabilmente questa è la novità più grande degli ultimi tempi nel mondo della finanza il venture capital è stato sempre la cenerentola all'interno di questo macro universo che possiamo definire private equity perché in Italia sappiamo ci sono tutta una serie di problematiche che però stanno cominciando a essere superate abbiamo tanti player che sembrano essere in grado di fare cose egregie sul fronte venture e noi ve li raccontiamo puntualmente per cui non esitate scaricate mag ci sono veramente tantissimi approfondimenti per voi noi ci vediamo la settimana prossima ciao